Ragazzi voi non potete capire ciò che è successo Cioè ho fatto delle partite con Steph e Fere con noi Amarci, Gabby, Svizer Sacco di youtuber E io ero sempre l'impostore Vabbè come è possibile sempre l'impostore 1, 2, 3, 4 Can I have a little more Il pinguo impostore E me la sono giocata bene Ho il coltello affilato Tengo a precisare non sono stesse partite che hanno già messo gli altri nei video Ma queste sono completamente altre partite Quindi ragazzi nulla Se abbiamo letto altri video su Among Us con gli youtubers Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto Attivate la campanella e vi ho lasciato un mega pollice in su Possiamo iniziare Non è possibile qua Ragazzi ma sempre io sono l'impostore contro tutti Ma si può far così? Dai sabotiamo un po' di cose Sabotiamo Sabotiamo un po' di cose Sabotiamo Ragazzi devo stare attento Andare in giro E cercare di capire Ma la gente cosa fa Allora ragazzi devo cercare un modo per uccidere qualcuno Senza farmi vedere da qualcuno Quelli là sono tutti insieme Ok vai Ciao 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 Ma come? Successo Che è successo? Aiuto Aiuto Oh mio dio Non ci posso credere ragazzi Posso parlare Finalmente Ragazzi c'è Steph che mi sembra tutta la partita paurissima Ti voglio dire una cosa Ragazzi è morto Nico Praticamente Stavo terminando l'altro video E Marce mi ha visto fermare la zona di ossigeno Quindi avrà pensato l'assassino Allora ho deciso di impedirlo Ah sì 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 Allora Allora votiamo Steffo Noni Stavi terminando l'altro video Ma come fai nello spazio Cos'hai notato signor detective? La mia pancia ha visto Fere Praticamente Che ha chiuso tutte le porte Mentre ero con lei Sotto a benzina Non so chiudere neanche le porte Aia Stavamo parlando Ma no ha chiacchierato Perfetto Quindi io è bravo Io sto giocare a chiacchierare A differenza di tempo Mamma sei metto a un lato Che è che mi ha votato? Che è il mio Io Allora io è Fere Proprio Impostorinati Ragazzi Impostorinati Allora Spreaser Lasciamelo vivo Per un pochino Perché sinceramente Mi dispiace Tenere lui No No Razzista Spreaser mi segue Tra l'altro Non voglio ucciderlo No Non voglio Non voglio Non voglio Anche Anche che Anche che mi segue Asmetti 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 di seguirmi Ok Basta Sbri Sbri non mi seguire Sbri io te lo dico Se mi segui Ti faccio morire Guarda come scappa Sbri Asmetti Aiuto È chiuso È chiuso Cosa dobbiamo Sbri Asmetti di seguirmi Basta Ragazzi Spreaser mi segue Ok Ok E non va bene Se Spreaser mi segue Gabby che cosa dobbiamo fare Qua Gabby Siete voi impostori Non possiamo Non possiamo Non possiamo No che cavolo Oddio no Devo chiudere qua Devo chiudere Non devono trovare il corpo Lo devo trovare Non devono trovare il corpo Lo devono trovare Non devono trovare il corpo Di Steffo Non è il momento Poi se ne parla Devo uccidere prima Spreaser Allora non è Per forza A priori Perché tra l'ultima di Già mi avrebbe ucciso Perché ho visto Spreaser Spreaser parla troppo Spreaser Chi è parlato Vieni qua Spreaser Mi sei Ma come Chi Ovviamente Ragazzi Io ho visto Io ho visto Che c'era Lorenzo Ma Spreaser Che mi segue Sempre Io Sono le qualpitazioni Perché io sto attento a te E appunto È impossibile che sia Lorenzo Una terza volta Perché è lui l'impostore Io sono Lorenzo Sbrizer Ragazzi Se fossero loro due Mi avrebbero ucciso Arrota È Appunto C'è Stavamo giocando A scacchi Io ho visto Potrebbe essere Lorenzo Potrebbe essere Lorenzo Sbrizer Perché D'altro D'altro Sbrizer Che mi porta ansia Che mi va a seguirmi Ho avuto paura Per la mia vita Morto davanti a Lorenz Sono entrato nella stanza C'era Loco Morto davanti a Lorenz Aspetta un attimo Che prima è entrato Sbrizer E poi sono entrato Ma che cosa dici Sbrizer Bu io voto Ferra ragazzi Perché mi ha chiuso Anche prima E poi All'inizio Io voto Sbrizer Perché mi ha seguito Tutti il tempo Vuole la vendetta Ma non ti ho fatto nulla Sbri Ma non ti ho fatto nulla Ok Non ti ho fatto nulla Guarda come mi seguono guarda Aspetti seguirmi spreezer Guarda come mi segue spreezer tanto io non lo c'è Spreezer mi segue in continuazione Guarda l'ora guarda l'ora che ci stiamo inseguendo Riccendo ora mi metto Gappi aiuto gappi Gappi spreezer mi segue gappi Spreezer gappi spreezer dov'è gappi Dov'è gappi ho bisogno di gappi Marci ciao marci ho bisogno di gappi Dov'è che sono lui mi posso salvare da tutto questo Il mio gappinetto personale Dov'è che ci stavo gappi ciao Allora io seguo te gappi Resta con me ti prego gappi Resta con me ti prego Resta con me ti prego basta Spreezer mi segue troppo Spreezer resta con me E sta con me So seguirmi in modo molto sospetto Gappi lo sai gappi Gappi io ti seguivo perché c'è spreezer che continua a seguirmi Quindi sei tu l'unica speranza per me Mi sono andato giù e tu sei tornato indietro per seguire Sì perché ti cercavo per tutta la mappa gappi Perché quando avete spreezer mi sta facendo paura gappi Ragato lorenzo sei ancora lui veramente equito al gioco Gappi io cercavo la tua salvezza Ragazzi secondo me pure lorenzi Secondo me è spreezer Cambio gioco ciao Secondo me è spreezer Forse è Fede l'alba È Lorenzo Vediamo Non ci posso credere Ragazzi Ti posso credere Tenete in occhio Fede Oh mamma mia Fede lo difendeva vi dico solo questo Io non ho parole Ti giuro non lo sapevo io Sviser in fame che mi segue Ok ragazzi sono di nuovo l'imposto Ma oggi sono sempre impostore sono Ma non è possibile che oggi sono sempre solo impostore Dai Non è fattibile Com'è che sono qua Facciamo le task Cerchiamo di fare le task No steppo via steppo Via steppo Mamma mia steppo che ha eliminato L'hai rischiato Steppo che hai fatto Anti navigazione Io ho visto allora insiste che noia E il corpo però io non l'ho visto Dov'era dietro di me C'era Gabby che stava facendo l'ossidio Era proprio lì No no ero la tosca Io stavo a correre Il corbidoio E ho contratto che noia E loro Io ho incontrato Gabby Però non ho visto il corpo Io sulla produccia voterei Lorenzi straga Subito all'inizio Ma no dai Nella zona emergenza c'era qualcuno? Secondo me è loco Secondo me è loco Non l'avrebbe col tempo Sì Raga io non voto come sempre Però non me la sento Non lo so È loco o Lorenzo Oh no l'ho dato il mio voto classico Oppure anche Martina che ha riportato Potrebbe essere lei Eh no l'ho trovato lì Nessuno è stato buttato fuori E meno male Però c'è che noia che mi sta annoiando In questo momento Che mi fa cose brutte Quindi Beh che noia Secondo me Già che mi dice cose brutte Non va bene Non mi piace Cerchiamo di Cerchiamo di sabotare Vediamo come faccio a sabotarli L'ossigeno 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 Io faccio Tipo qua Ok Faccio finta di fare le task Come fanno tutti ragazzi E poi andiamo ad uccidere qualcuno Perché è normale No no Gabby Gabby mi ha visto Qua c'è che noia Via che noia Via che noia Non farsi vedere da nessuno Passiamo di sotto Qua Su qua Ok allora Io ho sabotato un po' di cose Però Emergency Sì E continua a seguire In modo sospetto Chi? Oh ma ogni volta Tu pensi che io ti seguo In modo sospetto Ma ma Ragazzi Mi voglio bene Ragazzi Voglio dire che Fere ha fatto le foglie Quindi è pulito Ragazzi Ma che noia Esatto Martino era con me In mad Io Poi la pa sinistra Io quella va dalle telecamere I più strani a muoversi Erano Gabby Lorenzist E basta Perché Soprattutto Gabby Marcia e Fere Stavano facendo task Sì Ci siamo anche incrociati Con il marzo Ci siamo incrociati Secondo me Gabby sta dicendo Che Lorenz Si sta apposta Per coprire Sua vicenda Può essere No 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 Fidati Fidati Si è girato Io le certezze Sono marci e Fere Se loco siete sicuri voi Ok No non sono sicuro Poi che sta finita Ad accusare me Così Magari vuole scaricare Io l'ho visto Io l'ho visto Che eravamo Nel security cam Io C'eravamo Io lui E poi un altro Che era Ma Io ero tutto il tempo Alle camera guardate Noi eravamo Entrambi da soli Lai Eravamo in tre L'elettricità Però io non ti ho visto uscire Non lo so Sono subito scappato Ma tu ogni volta che vedi qualcuno C'è paura Ma ho una domanda Ma io mi guardo attorno Io mi guardo attorno Infatti Tu Lorenzo sei strato Allora ho una domanda Chi è che E stava a sinistra Verso sinistra Dove c'è il motore Io ero a telecamere Quindi ero lì Io ero al centro Quando è stato chiamato l'allarme Vi spiego Perché Martina era con me in medbay Stava aspettando Che mi guardasse Mentre facevo la missione Ma sei andata via subito E' andata verso sinistra No io ero con te bro No Lorenzo sei di nuovo tu Sei di nuovo tu Dai Lorenzo Guardami in faccia Guardami in faccia Lorenzo sei di nuovo tu Ragazzi per me sospetti Sono Gabi e Lorenzi Stai al momento No per me Guardate Se Gabi Gabi guardate come cerca Di impuntarsi Su di me Boh allora io c'ho sospetti Su loco Steph e Lorenzi Allora il problema Il problema è che Gabi C'è i sospetti su tutti No Steph Perché io vorrei eliminare tutti Fidatevi Fidatevi Non so Io farete L'errore che sono Vostra vita Fidatevi Votatelo Votatelo Cosa dovete votare Ragazzi Siete sicuri Guardate come ha paura Guardate come ha paura Guardate come ha paura Se la sente la paura Ragazzi fidatevi Guardate la sente la paura Ragazzi fidatevi Povero Gabi Povero Gabi Povero Gabi Mamma mia Mi dice sempre cose Via storage Me ne manca uno 20 secondi Devo resistere Storage L'ho dovuto chiudere Io comunque Chiamo l'emergency Io comunque Chiamo l'emergency Ok Ne basta uno Ne basta killare uno Siii Ma Lorenzo Basta E' stato culuità D'ugitario Io non l'ho potuto dire Vabbè L'ho fatto Lorenzo ma cos'è È taroccato il Joseph No C'è Alle hack Alle hack C'è Una cosa impossibile Ha sciopatto Con i robux L'essere impostore Nel tempo G Grazie a tutti